salve a tutti e allora in questo 1.2 formula andiamo a descrivere alcuni dettagli che voglio provare sulla testata prima di andarle a descrivere vi accenno soltanto che tutto questo lo andiamo a fare perché siamo molto limitati dal progetto del motore che è vincolato dalle dimensioni del carburatore quindi sto cercando di adeguare alcuni lavori per poter andare a sfruttare al meglio tutte le caratteristiche proprio dell'aspirazione che siamo limitati a delle dimensioni proprio per regolamento quindi quello che andremo a fare poi voglio studiare proprio i comportamenti al banco di flussaggio delle due testate per andare a fare delle valutazioni proprio quale sia più migliore al banco quindi andiamo a descrivere un po' come andiamo a procedere momentaneamente sul sulla testata e allora quale sarà il primo il primo diciamo step di lavorazione da fare il carburatore questo quindi che va un po' a limitare le prestazioni del motore andiamo a fare una e due flussate sulla testata ancora originale sia questa che questa con il carburatore nelle condizioni ancora normale non lavorate perché ho intenzione di andare a lavorare un po' il pacco del carburatore quindi andiamo a montare il collettore di aspirazione quello suo ne mettiamo la bagelite di adattamento per il carburatore sopra e andiamo a stabilire un po' come si comporta prima su una testata e anche poi sull'altra quello che va a cambiare tra le due testate a parte che sull'aspirazione questo collettore che è per questa per questa testata quindi abbiamo tutti i collegamenti dei prigionieri che vanno a bloccare il collettore e ha delle dimensioni della testata quindi andiamo a valutare prima cosa andare a fare per questo dico sempre prima andiamo a fare una valutazione di quello che abbiamo attualmente su questa testata invece che non ricordo bene se del 1000 o del 1100 andiamo ad avere l'altezza dei collettori dell'imbocco del collettore sono uguali vanno a cambiare soltanto i quattro pigionieri di sopra che montano un altro collettore che dovrebbe montare quello in plastica con l'iniezione multipoint questo è predisposto comunque dobbiamo soltanto andare a valutare un po' i due comportamenti del flusso e poi dopo aver fatto le prove a banco di flussaggio andiamo a vedere se lavorando i passaggi della sede valvola andando a lavorare sia la valvola che è un po' tutto lo anche il collettore stesso vediamo quale dei due va a migliorare di più come prestazione quindi poi andiamo ad analizzare i grafici al computer delle due prove di flussaggio e andiamo a fare delle lavorazioni sia sulle valvole di aspirazione e di scarico vedete le valvole sono uguali sia dell'altra testata che ancora non le ho pulite ma andiamo ad utilizzare queste perché sono uguali quindi vediamo il comportamento delle due poi dove avere fatto questo prima di fare tutti gli accorgimenti per andare a vedere quale testata poter utilizzare andiamo a smontare il carburatore e andiamo a fare dei lavori di disestimazione proprio perché non possiamo toccare i passaggi della farfalla o cambiare le dimensioni ma soltanto andare ad aggiustare un po' il flusso prima dentro tutto il tutto il componente del carburatore d'accordo andiamo quindi a fare le due prove e allora ho fatto le due prove di flussaggio sulle due testate e quindi a parità sia di carburatore e collettore abbiamo due diverse letture proprio dovute a una differenza di sezione di condotti ora prima di andare ripeto a fare delle modifiche andiamo ad analizzare i dati di lettura delle due testate quindi andiamo a vedere a vedere un po' i cambiamenti che sono dovuti proprio alle due testate e andiamo a scoprire qualche cosa di comportamento anche attraverso i dati proprio come si comporta il carburatore e il collettore nelle due testate però voglio chiarire prima di andare a vedere i dati che sono un po' diversi dalle altre volte proprio perché ho aumentato la potenza dei motori proprio perché volevo riuscire come ho detto diverse volte ad avere una lettura fino a 14 mm di apertura sulle 2016 valvole quindi con più portata non riuscivo ad avere queste letture soltanto che ora che dobbiamo fare è una modifica che farò nel banco proprio perché volevo andare a fare due diversi chiave di lettura dei dati quindi avere una portata con più depressione oppure di meno in base alle diverse esigenze proprio di depressione che andiamo a inserire proprio nel programma quindi per adesso sono stati fatti a 20 pollici come depressione della colonnina d'acqua invece prima l'avevo a 10.8 quindi c'è stato un incremento di depressione quasi del doppio proprio in questa lettura sono stati fatti tutte e due uguali poi al limite nel programma andrò a inserire una formula stessa per andare a convertire i dati che avevo prima utilizzato proprio perché dobbiamo sempre avere uno standard di lettura dei dati in base alle prove che andiamo a fare quindi o scegliamo una depressione più alta o più bassa dobbiamo avere sempre le stesse portate in GFM d'accordo? andiamo ad analizzare un po' i dati e poi al limite andrò a descrivere quello che andrò a fare nel prossimo video e allora andiamo a vedere il grafico questo è quello della testata con le sezioni dei condotti leggermente più stretti quindi abbiamo sempre come ho detto specificato prima una depressione più ampia quindi abbiamo una portata leggermente superiore rispetto a qualche video precedente proprio perché poi questo grafico un po' leggermente andrà a cambiare proprio perché andiamo ad uniformare le diverse letture alla stessa diciamo a convertire la depressione uguale per tutti momentaneamente questo è quello che abbiamo visto per adesso su questa testata allora questa è la testata e poi il grafico va a cambiare con la portata del collettore e carburatore quindi abbiamo leggermente modificato dei miglioramenti alla bassa apertura della valvola e poi in alto leggermente va a perdere proprio perché rispetto ai condotti della testata che già per questo tipo di collettore e carburatore siamo leggermente già migliori come testata poi mettendo il carburatore e il collettore va a peggiorare un po' quindi dobbiamo andare prima ad aumentare un po' la portata d'aria attraverso il collettore e il carburatore e poi al limite vedere se nella testata vado a modificare qualche cosa nei condotti togliendo il collettore che ho uguale nelle due testate confrontiamo le due portate di testata alla parità di condotti che ancora sono originali quindi quella è rosso e quella con i condotti più stretti e quella è più larga abbiamo leggermente una portata superiore iniziando da 4 mm fino a 14 mm come miglioramento proprio dovuto a una sezione di passaggio più ampia a parità sempre di valvola e di passaggio della sede questa poi la voglio andare a modificare leggermente quindi prima di fare ulteriori lavori voglio fare delle prove con una sezione diversa della sede però questo miglioramento della testata che abbiamo se lo andiamo a quantificare con le due portate dei collettori quindi andiamo a mettere la testata con il collettore e il carburatore con la testata quella modificata con maggiore portata vedete l'incremento si va ad annullare abbiamo piccolissimi miglioramenti dovute proprio a una conformazione diversa di testata però vedete qui nelle basse aperture va a peggiorare un pochettino quindi con il collettore sulla testata al sezione più piccola abbiamo dei miglioramenti nella fase di incrocio della valvola fino a 4 mm di apertura e poi effettivamente dopo 10 mm abbiamo dei miglioramenti ma ripeto dopo 10 mm non abbiamo più questi miglioramenti proprio perché siamo limitati all'alzata del bocciolo che siamo limitati dal regolamento che non dobbiamo andare oltre i 9 mm di bocciolo 9 è qualcosa non mi ricordo ora devo vedere però diciamo oltre i 10 mm fino a 10 mm abbiamo le due diverse portate uguali quindi quel miglioramento che abbiamo sulla testata a sezione più grande verrebbero annullate quindi la sezione dei condotti più stretti per questo tipo di testata diciamo andrebbe pure bene anche anzi è migliore rispetto all'altra proprio nelle basse aperture come miglioramento quindi quello che andiamo a fare ora è andare ad aprire il carburatore portare dei miglioramenti sulla sezione proprio per andare a migliorare questo andamento dovuto fino a un certo alzata sempre da valutare che a noi interessa fino a 10 mm di alzata quindi rispettare questo grafico da 10 mm fino a 1 mm ok? quindi andiamo a migliorare un po' nel carburatore poi dal carburatore in poi andiamo a vedere se dobbiamo andare a fare degli aggiustamenti proprio sulla sezione valvola o sui condotti per andare a modificare qualcosa e allora vediamo da dove iniziamo ad fare le prime modifiche andiamo a smontare l'insieme del carburatore proprio perché dovremmo andare a lavorare le parti della farfalla quindi andiamo a stabilire vediamo cosa andiamo a trovare nell'insieme e quantifichiamo i miglioramenti da fare partendo proprio dal carburatore questo è quello che ne va a limitare le potenze e andiamo a vedere cosa andrà a modificare vedete? se andiamo un po' andiamo a sganciare un po' la mollettina interna per potere e allora questo è il componente dove possiamo andare a lavorare questo è l'altro sulla farfalla andiamo a togliere proprio l'altra parte di sotto quindi una volta che abbiamo modificato i due componenti allora andiamo a lavorare la parte della farfalla ripeto non dobbiamo toccare le sezioni ma soltanto andare a togliere qualcosa che impedisce al flusso di avere un'entrata molto più lineare attraverso la farfalla l'altra lavorazione da poter apportare è qua nel diffusore proprio per migliorare l'entrata dell'aria lasciando la sezione di passaggio che non possiamo andare a modificare d'accordo? dopo che abbiamo fatto queste due lavorazioni in base alla percentuale di miglioramento che abbiamo poi andiamo a lavorare sul collettore e sulla testata quindi se poi non andiamo a perdere niente a livello di flusso su due componenti andrò a modificare anche il passaggio della sede proprio per vedere se andiamo a migliorare ancora ulteriormente proprio perché andiamo ad agevolare il flusso migliore nella camera quindi andiamo a lavorare un po' il componente stesso della camera andiamo a vedere se modificando qualcosa all'ingresso agevola tutto l'andamento del flusso attraverso il condotto e anche nella testata va bene vi aggiornerò nel prossimo video proprio le modifiche che andiamo a fare in questa parte siete d'accordo?